Ciao siamo Le Misteriche, una rock band toscana e siamo su MusicRiser per farvi conoscere il nostro progetto, ovvero il nostro secondo album. La verità è che nessuno qui ti comprenderà, fa così freddo in questa vita, che nessuno scatterà. Perché abbiamo scelto di andare proprio su MusicRiser? L'abbiamo scelto perché crediamo nella coproduzione, quella che viene dal basso, quindi da strettamente i nostri fans. MusicRiser! 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 Riepilochiamo, siamo le misteriche, non siamo belle, siamo molto brave, siamo molto determinate. Il nostro progetto però non può, come dire, prendere in volo senza il vostro aiuto. Quindi è per quello che stiamo su MusicRise Perché Più altro perché dobbiamo curare La nostra batterista e portarla È manicomio E con i soldi che avanzeranno Naturalmente cercheremo di Registrare un decente album Quante canzoni avrà l'album? 10 più una sorpresa Una ghost La cosa bella è che riceverete Riceverete direttamente Un regalo a seconda di quanto Diceva Monia Deciderete di darci A seconda del vostro sostegno Riceverete un regalo Una andata in bicicletta tutte insieme Una femme fatale Una cosa più semplice Un concerto in salotto Magari un disco autografato Un'ora in sola prove con noi Una cena con la pazza Magari vi ospiteremo sempre a casa sua Se volete Per qualcosa di particolare Quindi Riepiloghiamo Noi siamo le misteriche Dite lo voi Dite lo voi Dite lo voi Compro la consonante Come Come Se lo dice la parola Siamo Donne Misteriose Più che altro Malate Sicuramente Tendenzialmente Misteriche Sicuramente Ma abbiamo voglia di fare quest'album Sarà una cosa bella Perché ci rappresenta Ritroverai ricordi Ritroverai la dignità Ritroverai i tuoi sogni Scomparirai la dignità Scomparirai la dignità Ciao MusicRiser, dai balletto, c'è la musica e però prima di decidere che bambini lo ripetere